Mentre oggi esistono ancora delle barriere di tipo regolamentare per cui alla fine per raccogliere risparmio italiano tutti gli operatori sono grosso modo e poi vedremo perché sullo stesso piano, non c'è dubbio che appena la USIS-4 entrerà in vigore ci sarà un level playing field completamente livellato e saremo costretti a essere competitivi su tutta la linea, ma non solo a livello individuale, perché io di questo ho moltissima fiducia ovviamente nell'industria e nei suoi operatori ma anche a livello di sistema perché tutto quello che a livello di sistema italiano sarà più pesante, più faraginoso, scoraggiante rispetto ad altri dirotterà il nostro risparmio ovviamente ad essere gestito da altri paesi. Ci sono delle innovazioni di prodotto di cui forse è inutile entrare adesso in dettaglio, c'è il famoso mercato degli ETF che è il mercato abbastanza competitivo, sostituto rispetto a questi prodotti, con l'aggravante però che mano a mano che si vanno diffondendo gli ETF è possibile che l'Italia anziché essere un paese del risparmio e dell'impiego di risparmio diventi un paese di raccolta e non più dell'impiego di risparmio e questo mi preoccupa moltissimo perché guardare solo al risparmio senza guardare al canale tra risparmio e investimento significa di darci una versione distorta. Se tutti i fondi italiani finissero negli ETF potremmo assistere al paradosso che qui diventa una riserva di caccia e che poi gli impieghi vanno altrove. Mentre quello che noi dobbiamo cercare di creare e rafforzare l'avevamo provato, ho visto prima il sottosegretario Brambilla con la previdenza integrativa, parlerò tra un attimo dell'ipotesi di incentivare i piani di accumulo di lungo periodo, noi dobbiamo cercare di stabilire e migliorare canali di trasmissione tra risparmio e investimento. Ultimo la fiscalità. L'ho messo per ultimo per non dire che è il primo perché sono convinto che le sfide dell'offerta vanno molto oltre la fiscalità. Sicuramente però il discorso della tassazione dei fondi sul maturato piuttosto che sul realizzato è un'anomalia e proprio se la leggiamo in parallelo con la direttiva USIS-4 ci rendiamo conto che diventa molto più di quanto è già oggi un fattore di rischio e di rischio prospettico. Idem ovviamente vale per le regole, ma qui abbiamo il Presidente Cardia e spero che avremo con lui la possibilità di discutere cosa fare dal punto di vista delle regole per renderci più competitive. Guardare solo all'offerta sarebbe sicuramente strabico. Abbiamo sicuramente dei problemi a quel tanto importanti di domanda dove il problema qui non è risparmiare perché risparmiamo già abbastanza ma convogliare il risparmio verso questi usi più sofisticati e verso questo famoso canale risparmio e investimento di cui vi parlavo. Io quando parlo con tante persone di ambienti diversi sia amici, amici di famiglia, persone dell'ambiente nostro sia anche, devo confessare, molte volte delle banche nel sistema finanziario e così via mi rendo conto che c'è un livello di cultura finanziaria non solo nel nostro Paese che lascia un pochettino a desiderare. Non mi riferisco qui ai derivati, a prodotti complessi che nessuno capisce benissimo. Mi riferisco a principi molto più elementari in un mondo incerto dividi il rischio non mettere tutte le uova nello stesso paniere esiste una nozione di curva rischi-rendimenti per cui chiaramente se un titolo rende cinque volte un altro devi farti delle domande. Queste cose qua io nella pratica le vedo sempre ignorate e sono convinto e qui di nuovo invece approfitterò della presenza di Ferruccio De Bortoli che è veramente arrivato il momento di uno sforzo collettivo dell'industria, dell'università, degli operatori, dei media per cercare di diffondere un po' di più la cultura finanziaria ripeto, non con delle cose complicatissime qui si tratta di fare un decalogo di cose elementari e cominciare a spiegare quello. La seconda sfida che dobbiamo sicuramente perseguire è quella della richiesta di sicurezza tutte le analisi che sono state fatte dall'ACRI sul risparmio piuttosto che dalla nostra suggestione sul risparmio gestito mostrano che nell'ultimo periodo sicuramente i consumatori, i risparmiatori richiedono più sicurezza che magari rendimenti straordinari detto in italiano meglio non perdere piuttosto che pensare di guadagnare l'8%. Abbiamo sicuramente una sfida di mobilità della clientela dove il problema non è dal fondo A al fondo B ma è dal fondo A al cugino che ti dà lui i consigli perché il cugino molto raramente è un genio della finanza e probabilmente ti porta in certe lidi più pericolosi magari del gestore specializzato. Infine, crisi di fiducia io credo, e ci tornerò dopo nella mia conclusione che sta per arrivare, vi prometto crisi di fiducia è il problema principale c'è stata una tale tosata di risparmi e risparmiatori non solo in giro per il mondo che la fiducia dei risparmiatori sia nei prodotti finanziari nei mercati finanziari sia nelle banche sia nei gestori non è ai massimi e sicuramente c'è un problema inutile negarselo di ricostruirla non con parole perché poi i risparmiatori sono più avvertiti di quanto normalmente si possa facilmente immaginare ma evidentemente con comportamenti conseguenti e infine una buona corporate governance come premessa essenziale per l'ordinato sviluppo del mercato finanziario voi sapete che le SGR adesso hanno amministratori indipendenti sapete che hanno fatto dell'indipendenza dai loro proprietari uno dei punti di forza e questo è sicuramente un punto che va affrontato ora, come rispondere simmetricamente alle crisi? alla crisi di offerta bisogna rispondere con la competitività non sarà mai eccessivo lo sforzo per ridurre i costi non sarà mai eccessivo lo sforzo per migliorare le tecnologie per dare maggiore qualità io ritengo anche che ci debba essere una specializzazione nella gestione per cui l'era in cui tutti fanno tutto ti siedi nel borsino della tua banca e ti spiega cosa fare probabilmente deve essere superata quindi bisogna investire sulla professionalità degli operatori che è l'altra faccia dell'educazione finanziaria l'educazione finanziaria non si applica solo ai consumatori ma molte volte anche a chi vende queste cose c'è un problema di internazionalizzazione di flessibilità della regolamentazione di armonizzazione tutto questo aspetto delle regole è importantissimo dal lato della domanda ho parlato dell'educazione finanziaria il punto che forse è il punto più importante che io vorrei affrontare dal punto di vista della politica economica è quello dell'incentivazione fiscale del risparmio a lungo termine avendo vissuto in Italia ma anche in Inghilterra e in altri paesi quasi tutti i paesi il risparmio che tu tieni per un lungo periodo è esentato dalle tasse possiamo chiamarlo terzo pilastro della previdenza possiamo chiamarlo piani di accumulo possiamo chiamare allora non è il prodotto naturalmente che deve essere agevolato puoi comprare qualsiasi cosa ma il fatto che tu lo detenga in un conto speciale vincolato a lungo termine vincolato non nel senso che non puoi ritirare ma nel senso che solo se lo tieni per un lungo termine sei incentivato questo di fronte all'inevitabile processo di riforma del primo pilastro della previdenza della previdenza pubblica secondo me è veramente la sfida io sono convinto che questo di ottenere anche da noi uno sgravio dei piani chiamiamoli di accumulo paraprevidenziale o con finalità previdenziali è effettivamente una cosa delle principali detto questo io sono convinto e ritorno che il vero la vera sfida per riconquistare i consumatori per vendere prodotti migliori per venire incontro alle loro esigenze però non sia di partire né dalla competitività dell'industria né da tutti questi aspetti pur importantissimi che ho menzionato fino adesso ma dalla fiducia qui dobbiamo mettere il cliente al centro delle nostre attenzioni put client first come si dice ripartire dal cliente e riconquistarne la fiducia perché sennò tutti i discorsi che abbiamo fatto fiscali regolamentari di educazione finanziaria eccetera eccetera se non c'è la fiducia evidentemente non hanno alcun senso io sono convinto che per la fiducia appunto l'educazione finanziaria sia fondamentale ma i comportamenti lo siano ancora di più andate a vedere quando avete finito la mostra dei ragazzi della scuola di pittura di Brera che sta al piano di sopra abbiamo chiesto a 21 ragazzi di portarci le loro opere e ne premeremo le migliori tre sono quadri angosciosi va bene che siamo in crisi va bene che le cose non funzionano va bene tutto ma forse anche occupandoci delle giovani generazioni delle loro inquietudini credo che faremo un passo avanti grazie 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 a tutti grazie a tutti